Questa è l'entrata per i posti acquisiti dal comune, vi faccio vedere l'altra L'altra si entra di qua L'altra si entra di qua L'altra si entra di qua Quindi sono due lotti diversi diciamo, sono due blocchi diversi? No, in realtà sono tutti confinanti, però è chiaro che sono dipensati per essere divisi agevolmente, è tutto evidente L'altra si entra di qua 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 L'altra si entra di qua